Un nuovo step per la conclusione della bretella d'innesto alla Montanara sta per concretizzarsi. Il Comune di Imola ha infatti aggiornato l'accordo con la città metropolitana di Bologna per il finanziamento di 3 milioni di euro che serviranno entro il 2022 per chiudere i lavori su due rotonde d'innesto all'arteria viaria in attesa che si sblocchino i finanziamenti, altri 6 milioni di euro almeno, del cantiere sulla quarta corsia autostradale e si possa concludere così l'intervento dell'asse nord-sud della città. La ripresa degli investimenti è un capitolo importante e necessario anche in questa situazione della pandemia proprio per rilanciare anche l'economia cittadina, ma rilanciare le opportunità di un territorio e quindi non vi nascondo che stiamo lavorando, come si diceva anche nelle premesse, alle due intersezioni, che sono due intersezioni finanziate dalla città metropolitana e che prevedono i due snodi che oggi sono da considerare una sorta di cantiere aperto perché sono rotonde che ovviamente si possono attraversare ma non sono complete e dovranno essere riviste e saranno una parte fondamentale di snodo della futura bretella. Quindi un passaggio dovuto che ovviamente scade nel 2021 l'utilizzo delle risorse necessarie, che si parla di 3 milioni di euro quindi divisi circa un milione e mezzo, un milione e mezzo per entrambe le intersezioni e poi vedrà collegarsi le due intersezioni al futuro pezzo della bretella che sarà il collegamento successivo. Questo collegamento verrà dal sblocco della quarta corsia di società autostrade quindi da risorse che oggi sono vincolate nelle opere collaterali.